Chissà se un'accoglienza così se l'aspettava Wim Wenders, il grande regista tedesco, autore di Il cielo sopra Berlino, la lettera scarlatta Emilion Dollar Hotel, è arrivato ieri a Napoli per partecipare a un dibattito organizzato dall'Istituto Goethe in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica di Wenders a punti di viaggio, scatti che l'autore ha effettuato durante i suoi viaggi in Armenia, Giappone e Germania. Nei saloni di Villa Pignatelli, alla riviera di Chiaia, ad attenderlo il pubblico delle grandi occasioni, tant'è che è stato necessario allestire un altro spazio con un maxistermo per poter seguire la conversazione tra il regista e i suoi fan. A margine dell'incontro, alla domanda se in futuro gli piacerebbe girare un film a Napoli, Wenders ha così risposto. È la sua prima volta a Napoli, secondo lei è una città che più si adatta per la fotografia o per fare film? No, non è la prima volta a Napoli, ci sono già stato sette volte. Sono stato in diverse zone di Napoli, non so se è una città per foto o per film, forse entrambi, ma se per film a me interessano le storie perché quando faccio un film in una città in particolare è perché quello che accade lì non può accadere in nessun'altra città, quindi dovrei trovare una storia che può accadere solo qui e forse un giorno la troverò.